Si chiama PQ ed è il nuovo portale di destinazione turistica ed e-commerce dedicato al territorio di Gubbio, che è stato presentato a Palazzo Pretorio con il sindaco Filippo Sirati, l'assessore al turismo Gabriele Damiani, l'assessore al commercio e alla cultura Giovanna Uccellani e agli ideatori del progetto Francesco Dominici e Nancy Latini di Land. Il nome prende spunto dal picchio verde, volatile, presente nel territorio italiano e nell'area centrale della penisola, il cui volo veniva osservato fin dall'antichità come testimoniato dalle tavole eugubine. In sede di presentazione è stata definita la finalità del portale, che sarà online dal 1 novembre, quella di promuovere il territorio coniugando l'aspetto emozionale delle tradizioni e delle esperienze ai prodotti enogastronomici e artistici che lo contraddistinguono. Due saranno le sezioni, una parte dedicata alla destinazione turistica e una per l'e-commerce riservato alle eccellenze del territorio, PQ infatti sarà fortemente orientato al mercato nazionale ed estero, con particolare riguardo per l'area dell'Unione Europea, il Regno Unito e gli Stati Uniti e sarà pertanto realizzato interamente in lingua sia italiana che inglese. Sarà semplice per i produttori inserire i propri prodotti manufatti senza sostenere alcun costo né doversi preoccupare delle spedizioni, ma facile anche per gli acquirenti che vorranno comprare le specialità enogastronomiche o i manufatti artigianali. Non da ultimo potrà divenire una sorta di vetrina dedicata al marchio di denominazione comunale Deco. La realizzazione di PQ è stata possibile anche grazie al contributo dell'amministrazione e della Regione Umbria, in particolare a valere sul bando Bridge to Digital 2020.